Siamo presso la sala consigliare del comune di Ortona con il sindaco Vincenzo Dottavio che ha appena dato i suoi auguri e quelli della giunta comunale a tutti i dipendenti comunali. Un insieme di persone che danno il loro contributo pur rimanendo nell'ombra. Come è constitutile da tanti anni in questo nostro comune è d'obbligo dare gli auguri ai nostri concittadini e soprattutto ai nostri dipendenti che tanto lavorano per mandare avanti la macchina amministrativa. Gli auguri di Buon Natale ovviamente in questo momento storico per la nostra città come anche per l'intero paese per questa crisi socio-economica che ci attanaglia ma la speranza che l'anno che verrà possa essere migliore di questo va sempre coltivata. Gli auguri di Buon Natale ovviamente a tutti gli ortonesi, a tutti quelli che soffrono, stanno in difficoltà a tutti quelli che non hanno una casa popolare, a tutti quelli che cercano disperatamente un lavoro.